Sono Federico Maritanna, rappresento la Commissione Infortuni sul Lavoro dell'Ordine degli Ingeniari di Venezia. Noi ci occupiamo naturalmente del tema degli infortuni sul lavoro e quindi della sicurezza sul lavoro e naturalmente cerchiamo di comprendere le cause e analizzare anche tutte le leggi, le normative che nel tempo vengono prodotte su questa tematica. Devo dire che lo sviluppo normativo è continuo, ogni giorno c'è una novità che va analizzata, capita e naturalmente poi anche divulgata ai nostri colleghi. Ci siamo impegnati dall'inizio del nostro mandato anche su un tema molto particolare e secondo noi molto interessante che è il confronto degli infortuni sul lavoro nei vari Paesi europei. Questo perché volevamo capire se l'Italia è un Paese in cui ci sono più o meno infortuni rispetto al resto del mondo vicino a noi, cioè negli altri Paesi europei appunto. Questo è uno studio che si è dimostrato molto complesso, ci sta impegnando molto perché una delle prime notizie che abbiamo avuto modo di approfondire è che ogni Paese in sostanza conta gli infortuni in modo diverso dagli altri, quindi già questo rappresenta un primo scoglio nel cercare di confrontare i dati. Comunque stiamo andando avanti con questo lavoro che penso riusciremo a completare qui nel 2024 entro l'estate e poi l'obiettivo è quello di presentarlo a tutti quanti i partecipanti di un convegno che organizzeremo appunto qui con l'Ordine degli Ingegneri di Venezia.